Oh, finalmente il mio primo giorno da dentista su Roblox! Wow, sono davvero emozionato, ho studiato tantissimo per fare il dentista e finalmente sto per realizzare il mio sogno! Perfetto, questa è la mia stanza, non ci posso credere, guardate! Qui posso inserire il mio nome, Dottor Matti. Ecco qua, vedete? Dottor, Dottor Matti. Perché ho inserito due volte Dottor? Vabbè, non fa niente. Questi sono i due dottori che ci sono oggi, Dottor Matti e Dottor Payne. Io non so chi è il Dottor Payne. Comunque adesso non devo fare altro che sedermi sulla mia sedia e aspettare il mio primo paziente. Mamma mia, sono troppo emozionato! Fuori è diventata notte, ma non è arrivato neanche un paziente ancora. Vabbè, dai, sarà solo questione di tempo. Salve! Salve, questo è il dentista? Sì, salve! Come sta? Eh, insomma, potevo stare meglio. Melika, cosa succede, signorina? Mi presento, io sono il Dottor Matti, con due dottor. Ok. Attenzione, sono appena usciti i biglietti del nuovo tour di Rit di Matti. Sarà un super spettacolo in cui canteremo tutte le nostre canzoni. Affrettatevi a prendere i biglietti nella vostra città prima che finiscano. Io ho un po' una carie. Oh, davvero? Sì, e quindi sto male. Per caso hai mangiato troppa cioccolata? Sì, troppa nutella. Ah, ecco, immaginavo. Beh, mia cara paziente Ninna, si accomodi lì, bravissima, seduta, seduta. E le devo dire una cosa. Questo dentista è un dentista molto particolare. Sa perché? Perché? Perché per poter essere operata alla carie, lei non deve pagare. Operata? Eh, certo. Come faccio a toglierti la carie senza operare? No, 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 non posso, non posso. No, ehi, dove, dove sta andando? No, no, torni qui, signorina. Io ho paura del dentista, è questa la verità, io non voglio essere operata dal dentista, ho paura. Non si preoccupi, io sono un bravo dentista. Lo sa quante operazioni ho già fatto in tutta la mia vita? Quante? Eh, questa è la prima, zero. E sono... No, io me ne vado, me ne vado. No, 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 ehi, ehi. Torna qui, Ninna, torna qui, Ninna. Allora. Io ho paura. Ti devo operare, però ti stavo dicendo che per effettuare questa operazione, ecco beh, quella maglietta nera non va bene Come no? No, 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 torna subito qui sopra da me e adesso ti spiego le regole del dentista dentista dottor dottor Matti Ok, eccomi Allora, per essere curata ai tuoi bellissimi denti e avere un sorriso smagliante, ecco beh, devi avere un outfit diverso Ok, mi cambierò outfit C'è bisogno di un outfit più divertente, guarda, lo cambierò anch'io perché, ecco, per avere... Uh, ma qui ci sono tantissime cose che si possono avere qui su questa modalità di Roblox Vabbè, comunque, stavo dicendo, bisogna avere un outfit bello, capisci? Perché senza outfit bello tu non sei un fotomodello Ma io mi devo operare, non devo essere una fotomodella Non fa niente, noi ci dobbiamo operare con stile Infatti adesso io metterò la mia uniforme da dentista, ecco qui Ma sembri Hulk Poi ci mettiamo anche questa... Perché sembri Hulk? Allora tu non sei un vero dentista Ma certo che sono un vero dentista, dammi un secondo, cambiamoci... Oh, perfetto, vedi... Adesso sono un vero dentista, non mi riconosci? No, sembri Hulk Mi serve anche il mantello di Capitano America e una cosa fondamentale Cioè, cioè, cioè... Ecco qui, una spada Con quella spada io opererò i tuoi denti Eh, guarda, io ho la mascherina, non posso essere operata Eh, no, 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 togliti la mascherina e indossa qualcosa Mettiti un cappello, dai, un cappello è bello Ah no, i miei capelli si rovinano Dai, mi sto anche annoiando, guarda, sto sbadigliando Un'aureola? Ok, l'aureola è meglio No, 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 anzi Cosa? La coroncina La coroncina? Sì Ok, va bene Allora, guarda cosa faccio per te Eh, eh, oh, aspetta, è successo È successo Cosa? Aiuto Cos'è? Perché sono per terra? No, Ninna, cosa è successo? Che cosa hai fatto? Aiuto! Ci siamo bloccati, Ninna, mi sono incastrato nel pavimento E io sono straguita Ok, eccoci, eccoci, eccoci Ma che cos'è? Diciamo che Diciamo che il mio, il mio dentista Il dentista di dottor, dottor Mati è un po' particolare Infatti ci incastriamo nei pavimenti, no? Cose così Ma hai notato quanto siamo tecnologici qui? Ma che cosa vuoi fare con quella barella? Beh, ti porto nella sala operatoria No, 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 ti prego, io ho paura, ho paura Allora, non ti preoccupare, vieni insieme a me Ecco, devo, c'è solo poco spazio Passeremo attraverso una porta, eh, non ti preoccupi Ti stai facendo male? Ecco, ecco, ecco Siamo passati attraverso la porta Perfetto, siamo arrivati Puoi scendere Adesso io rimuovo questa E dove stai andando? Non ti stendere Vieni qua Dobbiamo prima fare la visita a Raggi X, Ninna Dobbiamo vedere i tuoi denti Noo Brava, mettiti lì Ora dammi un secondo Mettiti bene però Sì, ho fatto Ok, adesso io farò scendere la macchina Non ti spaventare Ok Ok No, basta, basta, mi prego Ok, eccola Tagliela Ma sta scannerizzando Ma ho paura Ma dammi solo un secondo Tagliela Mi fa male Ok Ecco Abbiamo finito Puoi uscire Ok Hai visto? Sì Ti ha fatto male? Sì Ma non è possibile i Raggi X? No, ti fanno male, Ninna E qua che cosa c'è? No Non andare a esplorare il mio posto Vieni subito qui Anche perché Ecco Guarda Ti faccio vedere Uno strumento che No, no, no Utilizzeremo Ecco Eccolo qua Ecco questo è lo strumento No, no, no Guarda Io Questo Matti Posalo subito Posalo subito Ti colpisco Posalo Ti ho scordito È finto È finto Stavo scherzando Stavo scherzando Ecco l'ho levato L'ho levato Sei contenta? Allora Dicevo Dobbiamo prima fare un'analisi No Sdraiati tu Io sono una dentista No, no Niente Niente dentista Sì, sono seduta sullo scaballo del dentista Serve un'analisi preventiva Guarda Guarda un po' qui Cosa abbiamo? No, no, no Ok Non puoi usarlo su di me No, no Perfetto Ora ti curo No, no Non mi devi curare Tu ho sbagliato Solo io Solo io Allora Vieni qua Ok Perfetto Allora Adesso ti devo curare Perfetto Vedi Adesso sto Sto testando E sento che il tuo battito Non mi convince Non mi convince No, non mi convince Dobbiamo fare una tripla operazione No, no, no Io me ne vado Me ne vado Aiuto No, sto scherzando Ne basta solamente una Scappo Addio Guarda che ti vengo a prendere Sono nascosta Ok Non mi troverai mai No, no, no Aiuto Guarda che ho una bicicletta Sono più veloce di te No, no, no Non mi nascondo di nuovo Guarda che sono più veloce di te No, non andare in piscina Sì No Sì Ma dai Ma sono caduto Sono caduto in piscina Va bene, ok Facciamo questa operazione Non pensiamoci più Oh, finalmente Andiamo Dai, coraggio Guarda Mi tolgo anche la bicicletta Così possiamo fare una vera e propria operazione di quelle fatte bene Allora, si stenda sul lettino, signorina Sul lettino Ti devi stendere sul lettino Ok Oh, finalmente Ora io mi siederò qua Ecco qua Perfetto E adesso possiamo iniziare la nostra operazione Allora Ok Dica a A Ok, molto bene Adesso prendo il mio strumento da dentista Ok E adesso possiamo iniziare a utilizzarlo Ok, piano però Certo, piano, piano Allora dammi solo un secondino che devo capire una cosa, eh Voglio stare più vicino a te Mi dà fastidio quello sgabello Ecco, mi metterò tipo qua sopra Ecco, così Io le operazioni le faccio faccia a faccia, vedi? Ma tu non sei un vero dottore Ma come non sono un vero dottore? I veri dottori non fanno così Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Guarda che se tu osi dire parole a caso Io tiro fuori questo, ok? Matti, smettila È finto tanto, mamma mia, oh Ok, che abbia inizio l'operazione del dentista Sei pronta? Ah-ah Parte numero uno Utilizziamo tutti quanti gli strumenti, va bene? Oh, Matti, mi sento male No, 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 no Ormai non ti puoi più alzare, allora No, svengo Siringa, siringa Ok Ho utilizzato la siringa Eh, Ninna? Oh-oh No, no Ho utilizzato la siringa per addormentarla Aspetta, aspetta, aspetta Utilizziamo questo Fa qualcosa? Ehi Tutto bene? Tutto bene? Ehi Ehi Oh-oh, ragazzi, cosa sta succedendo? Vabbè ragazzi, Ninna è svenuta Sapete cosa vi dico? Io ne approfitto E procedo con la mia operazione Ok Vai, puliamo per bene tutto Puliamo per bene Vum, vum, vum Vum, 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 vum Eccola La sua operazione si è andata a buon fine Ok Perfetto Ora non ci resta che attendere Si dovrebbe svegliare tra pochissimo Non vi preoccupate Matti? Oh, eccoti, Ninna Buongiorno Ciao Come stai? Non mi sento più la faccia Non ti senti più la faccia? No Vabbè, alzati e vieni qui con me Eccomi Oh, ma perché stai gattonando? Non riesco a stare in piedi Aspettate un secondo Ma l'operazione che ti ho fatto io, Nina Era sui denti, non sulle gambe Sicuro? Eh, beh, penso di sì Aspetta, fammi vedere se posso darti una mano con questo Ma che paura Ma cosa stai facendo? Aspetta, aspetta Tieni, tieni Ti do una mela Ti do una mela, Ninna Tieni Una mela Una mela No, no Ehi Ninna Ninna Perché sei caduta? Eh, perché sto male, Matti Aspetta, aspetta, aspetta Guarda, ti faccio un regalo Prenditi questa mela Prenditi questa mela Mangia No Hai dato una siringa Oh, oh, scusami Tieni Ecco la mela Te l'ho regalata Mangiati la mela, Ninna Me ne vado Mangiati la mela Ok Ok, dovresti tornare in piedi con la mela Diciamo che c'è qualche effetto collaterale Quando fai questi tipi di operazione Ma tu, tu, tu non sei un bravo dentista Beh, l'avevo detto che era il mio primo giorno da dentista Ma, Ninna, perché stai piangendo? Perché tu mi hai rovinato la vita Ora me ne vado No, ehi, aspetta Non te ne andare Sì, me ne vado Ciao Devi rimanere dieci minuti con me Ciao Perché se succede qualcosa di brutto Almeno ti posso controllare Ninna Non te ne andare via Ninna Ecco, lo sapevo che sarebbe andato male qualcosa Aspettate un secondo Ambulanza Ambulanza Ok Ninna, sali sull'ambulanza Me l'hai messa sopra Scusa Ai, hai schiacciato Ma scusa, Ninna, non volevo Sei nell'ambulanza? Non lo so No, aspetta, ma Matti Oh no, ti ho messo sopra Sì Ma come hai fatto? Tu sei un disastro Aiuto Non lo so Ninna Cosa facciamo? Non lo so Allora, aspettati Leva questa ambulanza Ti provo a tirar fuori Levala Non riesco, Ninna Ok L'ho spostata Ma tu cammini con l'ambulanza Sì Oh, ecco L'ho spostata Levala Ma l'ho levata Sono sotto Non so come fare Oh no Matti Aiuto Sono diventato un passeggero Ma chi è che guida? Sono diventato un passeggero Aiuto C'è una persona che guida Aiuto Aiuto Ma tu dove sei? Sotto Eh, non lo so, Ninna L'ambulanza si è attivata Ci stanno portando via Tu sei un fallimento come dottore Non lo so Premi spazio Spero che almeno ci porti Oh, io sono scesa Aspetta che scendo anch'io Ok, eccomi Eccomi Ciao Allora Ti dico una cosa, Ninna Tu stai male Ok? Stai molto male Sì Quindi ti devo portare all'ospedale No, no, no Basta Non mi fido più di te Ci vado a piedi Ci vado a piedi Ti giuro Ciao Guarda, guarda Ho preparato una macchina solo per noi Non è l'ambulanza È una macchina Ok È brutta Io voglio una Ferrari Eh, senti Veicolo da lavoro si chiama Lo posso rendere anche blu se vuoi Guarda No, no, no Va bene VDV Veicolo da lavoro VDV Vieni VDV Come si sa Ok, perfetto Adesso ti porterò via Ok? All'ospedale 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 Andiamo Andiamo Via Vroma Vroma Andiamo all'ospedale Sei contenta che andiamo all'ospedale? Non molto C'è solo blu Basta che tu non sei il dottore Piccolo problema Sì, cosa Ecco, beh Io non lo so dov'è l'ospedale Matti Tu non sei capace No, aspetta Dov'è l'ospedale? Non lo vedo E io che ne so Tu ci lavori Ehi, ospedale Eccolo, eccolo, eccolo Eccolo Emergency, emergency, emergency Emergenza Nino, nino Nino, nino Ok, perfetto Scendi Vieni, vieni, vieni Vieni, 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 vieni con me Mettiti qui sulla barella Sbrigati Perché se non ti opero in tempo Morirai, Ninna No, aspetta Sono io che devo portare te Non lo so L'ho presa in mano Ma perché? Vabbè, mettiti lì Siediti, ti devo operare Ma vabbè Ma sei deletto Mi fai una barella Vabbè, senti Io sono un bravo dottore Mi riuscirò ad operare Anche se hai una barella in mano Grazie Non fa niente Allora, eccoci Allora, iniziamo Iniziamo l'operazione Pi, pi, pi Ok, fatto Fatto, sei guarita Sei guarita Matti Che c'è? Tu ti eri straiato sulla barella Ti eri straiato sulla barella in piedi? Sì No, aspetta Voglio rifarlo Come si fa? Mi sono straiato sulla barella Sto volando Ok, basta Lascia quella cavola Come si lascia? Non lo so Dobbiamo fare qualcosa Lasciamela Bene, bene, bene Ti senti meglio adesso? Sì Aspetta, entriamo in chirurgia Sì Vieni, vieni, vieni Ti faccio un'altra Un'altra operazione Ok Allora, dammi un secondo Guarda Questa si chiama l'operazione mocho Guarda, la devo pulire col mocho Ma tu mi stai prendendo solo in giro Io me ne vado Non ti pago nemmeno No, no, come non mi paghi? No, me ne vado No, no No, no, no Ho fatto tripla operazione Vieni subito qui No, non mi interessa Guarda che ti colpisco col fucile Ah, sì? Vai Sto scherzando Non ti colpire mai No, ehi Dove stai andato? Dove stai andato? Ok Ehi, ehi Ninna Dove? Ma sto guidando io? No, aspetta Mi sono andato via da solo Scappo Ti blocco la strada Ok, sei fregata No, dove sei? Dove sei andato? Tu, io ti faccio causa Non sei un bravo dentista Valtene via Lasciami in pace Aspetta un secondo Come ti permetti a dire Che non sono un bravo dentista? Dove sei andata? Ehi? No, no Non è il momento di giocare a nascondino Ninna Ti ho trovata Ok Che facciamo? Basta Continuiamo ancora Ma basta Altri due minuti Che cazzo dobbiamo fare? Dai Va bene Vabbè, basta Altri due minuti Dai No, no Chiudiamo Chiudiamo No, facciamo questi due minuti Eh, non so cosa fare Ti vado dalla pulizia Vai Sai che ti dico? Cosa? Mi presti il furgone? No Anzi, vieni con me Ma come vengo con te? Sì, sì, vieni Ma io ti stavo inseguendo No, no, no Vieni Ecco, ci sono Perfetto, ok Che cosa staresti facendo ora? Eh, ora te lo faccio vedere Ninna, dove vai? Ehm Devo andare in un posto E tu mi devi accompagnare Ok, vuoi finalmente andare a casa tua A prendere i soldi E darmeli, intendi? Sì, esatto Oh, meno male Un attimo che non mi ricordo Dov'è casa mia Ok Ma dove sarebbe casa tua? Scusami Eh, sì, è in questa via Qua Mi ero dimenticata Ok, va bene Siamo arrivati Sì? Ok, vieni un attimo Aspetta Scendi Penso ci sia un errore, Ninna Sì Eh, no, è qua È qua Ok, ma questa polizia Non è casa tua Sì Io sono qui Perché ora ti denuncerò Perché tu mi hai rovinato la vita Anzi, sai che ti dico? Che cosa vuoi fare? Vieni qua Vieni qua Cosa stai facendo? Vieni qua Te le regalo Oh Mettitele Grazie Sei arrestato Perché tu sei un dottore schifoso Anzi Ecco, vieni qua Cosa stai facendo? Ehi, non provare a spararmi Vieni, vieni Non provare a... No Ehi Possa quello Possalo Vieni Sono qua Mi hai colpito Sì Aiuto Perché tu non sei bravo a fare il dottore Vatemi uscire Aiuto Aiuto, vi prego Salvatemi Vieni qua Ah, falsacchiotti Lasciate un mi piace Ci vediamo nel prossimo video Io adesso Faccio nascere un cavio dei pompieri E scappo via Ciao Oh, no Oh, no Sei tu che stai guidando Ah Ma a voi Vi è mai capitato Di farvi male Al piede Di dover andare dal dottore Perché a me no Ma a questi pazienti Che ora andremo a curare Sì Allora Questo è un gioco di piedi Quindi se non vi piacciono i piedi Continuate a guardare Perché vi giuro che alla fine del video Li amerete Lo so Detto così è un po' strano Però Noi oggi saremo dottori Tutti insieme Io e voi falsacchiotti Che mi state guardando E faremo I dottori Ai pazienti Anzi Ai piedi dei pazienti Vediamo che cosa Dobbiamo fare In questo gioco Allora Intanto Livello 1 Io sinceramente Schifo 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 Ma che schifo Vabbè Comunque Se siete deboli di stomaco Non guardate questo video No no Sto scherzando Continuate a rimanere con me Perché alla fine di questo video Diventeremo dottori Avremo la laurea In piedologia Bello prometto Comunque Vediamo un po' Stavo dicendo A me fanno un po' schifo i piedi Non è che mi piacciono molto Soprattutto Sono tutti brutti Io non ho mai visto un piede bello Anche i miei sono brutti Cioè Non mi piacciono proprio Però ci sono persone Che hanno piedi belli Piedi meno belli Insomma Vabbè Ok Allora Vediamo che cosa dobbiamo fare Dobbiamo Ah Sciacquare via lo sporco Ok Ma io vorrei sapere una cosa Tu Con questo piede Che cosa ci hai fatto? Cioè Hai piantato i chiodi Con questo piede? Comunque per ora è facile Vedete Dobbiamo pulire un po' qua Pulis 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 E poi un po' qua Pulis 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 Perfetto Cioè Hai chiodi Hai rametti Con le spine Hai le schegge Io non lo so ragazzi Ah Lo dobbiamo mettere qua Ok Io proprio Non lo so Che cosa ha fatto questo ragazzo Ma una cosa la so Sento dolore per lui Sì 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 Guardate Il chiodo Che schifo Scusa Paziente Non sono molto capace A fare il dottore Ok Bene Ah Poi pomatina E si cura tutto Ok Un po' qua Un po' Ok Un po' qua Ah Perfetto Sì sì Vedete In un attimo Spariscono pure le peggiori Come si chiamano Non mi viene Tagli Peggiori tagli Ecco Comunque stavo dicendo Io Non sono mai andata all'ospedale Perché mi ero fatta male al piede Cioè una volta sono caduta E sono dovuta andare all'ospedale Perché mi ero distorta una caviglia Avevo preso una distorsione Però Non sono mai andata in queste condizioni Ecco diciamo Cioè tu sei proprio un paziente Il paziente supremo Ti chiameremo Un paziente che si fa male ai piedi In un secondo Cioè Oh Ecco mi è venuta in mente una cosa Io da piccola Ho schiacciato un'ape E quindi avevo una puntura d'ape Sotto il piede Molto fastidioso Devo dire Che cos'è questo Ok Bene E ora che cosa dobbiamo fare Sì Lo guardo il piede Che mi sta indicando la ferita Sì sì Ci sono i batteri Ble 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 Batteri Ble Che schifo 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 Beh Questo gioco è molto realistico Cioè In realtà no Perché Ve lo giuro Non vi verrà mai una ferita del genere Con questi batteri qui Però ok Noi Stiamo giocando È solo un gioco Quindi va bene così Anche perché non siamo nemmeno Questa cosa non me l'aspettavo Ok Ottimo Bene Ragazzi abbiamo finito il tempo Quindi penso che dobbiamo ricominciare da capo Non ci posso credere Ok ci vediamo tra poco Ok ragazzi Ci mancano 50 secondi E sta per scadere il tempo Ma noi abbiamo quasi fatto Praticamente Dobbiamo solo Riunire la pelle Mettere le Le graffette Come si chiamano Ah i punti I punti Abbiamo fatto Il nostro paziente Pronto dimmi che Basta Basta punti Non gli servono così tanto Vi prego No non ci posso credere Ok Che cosa devo fare Oh basta Ma date questo paziente a casa Non lo voglio più vedere Poi c'è il tempo Non me l'aspettavo Sinceramente Cioè è più difficile Con il tempo Però ok Non dobbiamo perderci In chiacchiere Come faccio Come faccio io Ah Comunque È il momento Del secondo livello Io spero che Il secondo livello Non sia più difficile Del primo Perché se no Io non riesco Io non sono una dottoressa Io non sono capace E ho bisogno di più Ma che cos'è questo Uno zombie No ragazzi Questo è il piede Di uno zombie Comunque intanto Incomincio Perché se no Perdo troppo tempo Che cosa devo fare qua Ah questo Lo spray Ma che ne sa Ah forse è lo spray Per la puzza Sì sì Perché questo piede È un piede puzzolento Un piede puzzone Puzzapiede Ma io vorrei sapere No forse non lo voglio sapere Sinceramente Che cosa hai fatto Con questo piede Tu Quindi non mi interessa Guarda Ti faccio le punture Non mi interessa sapere Che cosa hai fatto Ah che schifo Puzzapiede questo Questo è un puzzapiede Bleh Ma voi avete mai visto Dei piedi più brutti di questi Ma come si fa qua Bleh Non capisco Non capisco Aiuto Ah ho capito Ho capito Ok Io sinceramente Non ho mai visto Dei piedi più puzzolenti Più brutti Meno male Che questo è un gioco Perché io Non li voglio vedere I piedi così brutti Nella mia vita Proprio Che cosa sto facendo qui Non lo so Ah ok Che cos'è questo Ah Sta tornando normale Guardate Io ora gli tolgo le gelatine Io non so perché Questo piede abbia le gelatine Vabbè Non facciamoci domande Ragazzi Io non voglio sapere Io non faccio questo Come messiere Io faccio la youtuber Avete presente Io Io non curo piedi Però Gli youtuber fanno anche questi Che cosa devo fare qua Ok Ecco Gli youtuber fanno anche I piedologi Piedologi Sì sì È una nuova cosa Che ho inventato io So che vi piacerebbe Fare questo lavoro Ma solo io posso farlo Sì 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 Ecco qua Guardate che piede pulito Cioè è quasi perfetto E mancano ancora due minuti Cioè io ora posso prendermi anche una pausa Vado in ferie Non sono più il dottore No 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 Anzi Io dovrei avere Devo pure lavarlo Non ci posso credere Non ci posso credere Laviamo questo piede Lava Il piedino Il piedino Lava 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 Il piedino Quanto lo devo lavare questo piede Oh Finalmente Stavo dicendo Io ho bisogno di un codottore Cioè nel senso Eh ho bisogno di Di una segretaria Ecco di qualcuno Che mi passi gli strumenti Che cosa devo fare Asciugare Asciugiamo il piede Ma io Cioè Non se non poteva lavare a casa La paziente Questo piede Puzzolente Ma poi che numero è questo Secondo me è questa Questa signora O signore Io non lo so Porta il 45 Cioè è un piede gigante Questo ragazzi Che cosa devo fare ora Una pozione Ah devo mettere questa L'erba L'erba Sembra prezzemolo Limone Limone E poi una rosa Petali di rosa Almeno i piedi Sapranno Di rose Che carini Ok Quindi ora posso fare Posso mettere Mettiamo qua 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 Mettiamo Mettiamo Ma basta Quante gocce devo mettere A questo piedone 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 Finalmente Con 50 secondi Di anticipo Ma che bravi Oh che bravi Siamo diventati fortissimi A questo gioco Anzi Sono curiosa di vedere Il livello 3 Di chi sarà il piede Di uno zombie Ma che cos'è Aspettate ragazzi Ci hanno Ci hanno promosso Nel senso Ora lavoriamo anche sulle caviglie Non solo sui piedi Finalmente Perché io mi ero stancata Di quei piedi brutti Sinceramente Qua dobbiamo fare Un'operazione A piede aperto Guardate Il bisturi Io ormai So tutto Sulla chirurgia E sugli ospedali E sui dottori Guardate Il bisturi Perfetto Abbiamo eseguito Un taglio laterale Profondo Ok Apriamo Ah Questo è l'osso È l'osso rotto Lo vedete Mettiamo la crema Che si risolve Tutto sempre Sì sì La crema Risolve sempre tutto Che cosa devo fare Comunque Ok Riattacchiamo l'osso Ma così semplice No ragazzi Non ci posso credere Devo mettere le viti Guardate Ho messo le viti Alla caviglia Ho una domanda Per voi Voi Avete mai subito Un intervento Siete mai stati operati Oppure avete mai Vi siete mai rotti qualcosa Perché io sono curiosa Ora eh Perché io ormai Sono una dottoressa E posso capire Se voi Siete stati curati bene O no Quindi scrivetemelo Qua sotto nei commenti No Io ormai Sono professionista Non vi posso far vedere Il mio diploma Perché ora Non posso Però ce l'ho Forse no Però vabbè Tanto è un gioco Non serve il diploma Mettiamolo i graffetti Come si chiamano I punti I punti Mi dimentico sempre I punti dorati A questo paziente Perché se li merita Un paziente speciale Un paziente ricco E quindi Mettiamo tutti i punti Mettiamo 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 tutti i punti Ma quanti punti Dobbiamo mettere Sono infiniti Non mi dire che poi Gli devo pure lavare il piede A questo eh Io non glielo lavo mica Ok Finito Che stancante La vita da dottoressa Basta Voglio andare in pensione Anche se ho 20 anni No eh Ragazzi Questo gioco È bellissimo Cioè ogni volta C'è qualcosa di strano Di nuovo Di nuovo Guardate questo ragazzo Vediamo un po' Si è fatto male Al pollicione Ragazzi Non lo sapevo Ok riattacchiamolo Non guardiamo Non guardiamo Non guardate Copritevi gli occhi Che schifo Che schifo Ma che devo fare io qua Ah devo Ah sì certo Devo riattaccare i pezzi di pelle Ragazzi Che schifo Che schifo Vabbè Ok Facciamo questa cosa Ma io poi non ne voglio più sapere niente Di piedi Dopo questo video Mi fa schifo Cioè quello non aveva il pollice Ma poi come se lo è staccato Beh Non lo voglio sapere Non lo voglio sapere Attacchiamolo E non pensiamoci Non ci facciamo domande Ma comunque Questa operazione È complicata Guardate Devo attaccare Non so cosa Sparare un laser Boh Vabbè Non ci facciamo domande Come sempre Attacchiamo E spariamo il laser Laser sul piedon Laser sul E che poi Quello non è il pollice Quello si chiama Non me lo ricordo più Si chiama ponnolo No Oh ragazzi Aspettate Ma lo sono dimenticata Si chiama Come si chiama Il pollice del piede Non me lo ricordo Alluce Alluce Finalmente Ok Si si chiama alluce Capito Voi lo sapevate Io sì Allora Vediamo Che schifo Ok Vabbè Lei Ah lei Ah di lei possiamo vedere La faccia Vedete Vediamo Ogni volta che gli sparo Quel laser Fa male Mi dispiace Mi dispiace Però ti devo curare Io sono una dottoressa Bravissima E ti devo curare Ma poi che cosa Hai spiaccicato Con questi piedi Buccellenti Io non so dove andate Con questi piedi Ma si usano le ciabatte Usate le ciabatte Questa sembra Caccapopù Sì sì Ve lo dico io Questa È andata a schiacciare La caccapopù Del cane Sì 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 Io ne sono sicura Vabbè comunque L'abbiamo già curata Praticamente Adesso dobbiamo togliere Le spine Le spinotte I ricetti Togliamo tutto Da questo piede E siamo È guarita Ma che prova Che sono Scusate Ma nessuno mi sta pagando Per queste cose Che io faccio Perché io sto curando I pazienti Sto facendo di tutto Ma nessuno mi paga Eh avete capito Sì Io sto lavorando Gratis Intanto andiamo a fare Il livello 6 Vediamo che cosa Ci aspetta Ci aspetta una signorina Con dei vetri Sicuramente ha schiacciato Una bottiglia rotta Perché dovete sapere Che quando si rompono Le bottiglie di vetro Ci si deve mettere Le scarpe Io infatti Lo faccio sempre E infatti Non schiaccio mai I vetri Perché poi fa male Togliere i vetri Dal piede Io lo so Guardate la faccia Avete visto Guardate Ecco Questa è la faccia Di una Che si è fatta male Vabbè Comunque ci sono io Tranquilla Ti curo io Ecco qua Cosa devo fare qua Non capisco Aiuto Aiuto Ragazzi Non capisco Che cosa devo fare Aiuto Vabbè Io continuo a sorfinare Questo coso Fino a che Ah Scusate Ho visto ora Io sono un po' stupidotta Lo sapete Con questi giochi Non sono bravissima E ho visto ora Che stava guarendo Perfetto Guariamo anche qua Anche qua Mini taglietti Poverina Hai fatto tanto male Ora tanto tranquilla C'è la dottoressa Corinna Che ti aiuta Ma che bolle sono queste Che schifo Dopo questo video Non guarderò più I piedi di nessuno Ve lo prometto Cioè mi fanno proprio Orrore Orrore Io odio i piedi Da oggi Li odio Li odio Non li voglio più vedere Nemmeno i miei Non li laverò mai più No scherzo Li laverò Perché sennò Puzzano Che schifo Beh Mettiamo i gerottini Così curiamo le ferite Gerotto 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 Gli ultimi due Almeno lei può andare A casa tranquilla Perché io gli ho curato Tutti i piedi Poi che dobbiamo fare Finito No Questo è inaspettato Ragazzi C'è poco tempo Come faccio No Sto per perdere Non ci posso credere No Non me l'aspettavo Sinceramente Cioè io Ho fatto tutto con calma Ma scusa Ma tu sei un po' stupidotta Che sei andata sui vetri Con tutti e due i piedi Vabbè Non facciamoci domande Rimane un minuto La corsa Dobbiamo correre E fare veloce Ok Ora Vediamo Ora qua Spreghiamo 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 Veloce 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 Praticamente sto inventando Una lingua tutta mia Non ci posso credere Che perdo No 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 Io non posso perdere Non posso Sono una professionista ormai I dottori Non perdono mai No Ti prego Aiutami Più tempo Datemi più tempo Non ce la faremo mai Eh Mi dispiace È colpa sua Che è andata sui vetri Con tutti e due i piedi Io non ci posso fare niente Non ci posso fare niente Cara mia Io non posso curare tutti Eh Niente ragazzi Facciamo l'ultimo bobbone E niente Perzo Basta Basta Io mi rifiuto Io mi rifiuto Mi rifiuto Torno indietro Sapete che vi dico Colpo di scena Il colpo di scena È Un'operazione a cuore aperto Esatto Ho sbloccato il livello Per fare un'operazione a cuore aperto A cuore aperto E quindi È il momento È il momento È il momento di operare Oh Ciao Paziente Allora Lei ci dice che il paziente È in condizioni critiche Mi dispiace Che bel fisico Che ha il paziente Vabbè Ok Mettiamoli questa cosa Facciamolo addormentare Perfetto Ciao Buonanotte Sapete che quando sono stata operata Mi sono addormentata Anch'io così Ho dormito tutto il tempo Tutto il tempo Tra l'altro Trovate il video Dell'operazione Sul calare Nina è matto Ovviamente Se lo volete vedere Ora sta facendo Degli esami Del sangue Penso Eh sì Del sangue Del cuore Del cuore Scusate ragazzi Ah Misuriamogli la febbre Vediamo quanto ce l'ha Vediamo 40 60 È troppo alta 100 Va bene Ok Non facciamoci domande Dove le devo mettere Questa cosa Ah qua Questa serve per la pressione Ragazzi Io non so come si misura Vabbè Ok Abbiamo misurato la pressione Al nostro paziente E ora Dobbiamo dargli Questa medicina Penso per farla Addormentare Spero Quando si addormenta Questo Se no Io non posso Superare Se lui è sveglio Capite Vabbè Ok Aspettiamo Aspettiamo Ora dobbiamo Che cos'è Questo È un ago E a che cosa serve No ragazzi Io non lo conosco Questo ago Io non so cosa serve Che cosa devo fare Ho allargato qualcosa Va bene Non voglio sapere Che cosa ho fatto Però Ok Io Io sono esperta In piedi Non in braccia Capite Eh Voi mi avete fatto Fare un lavoro Che io non so fare In realtà Mi avete truffata Ma scusate Dov'è il nostro paziente È vivo È vivo O no Non capisco Abbiamo vinto il livello Mi sa Non ho capito niente Scusatemi Ragazzi Ops Vediamo un po' Facendo il secondo livello Se il nostro paziente È ancora vivo Oppure no È un altro Ok Va bene Speriamo che non devo rifare Le stesse cose di prima Cioè io vorrei fare Proprio un'operazione A cuore aperto Vorrei operare Vabbè Intanto mettiamogli questo Ok Poi misuriamo qua Bah Io Io Non capisco Che cosa sto facendo Sinceramente Ma Mi sento Che sono bravissima Sto andando bene Sto curando Tutti i miei pazienti Così divento ricca E posso comprarmi Una macchina Per operare Tutte le parti del corpo Secondo me Dovrebbero inventarla Una macchina Che Tipo Tu la metti qua Ti opera La testa Eh vabbè Che cosa sto dicendo Ragazzi Dovrebbero portarmi A me in ospedale Sono troppo stanca Oggi Aspettate Questo è diverso Dobbiamo fare Un buco nel dito Ma che cosa stiamo facendo Io non li conosco Questi strumenti Io sono specializzata In piedologia Vabbè Ok Non facciamoci domande Comunque Curiamo Questo paziente È in fretta Ecco Ci siamo Sto per operare Secondo me Facciamo questa puntura Oh Poverino Facciamo la puntura Ma come si fa Una puntura Ah Ecco qua Ma quando è che mi fate operare A cuore aperto Io sto aspettando Solo quello Ecco ora Stiamo facendo I segni Per aprire Il suo petto E per vedere Il cuore Sì sì Funziona così ragazzi Fidatevi Fidatevi di me Io sono un esperto Ormai Anche di cuore Guardate Questo è il bisturi Vediamo che cosa c'è Dentro Un corpo umano Voi ve lo siete mai chiesto Ma come si taglia qua Non riesco Aiuta Oh oh Finalmente Stiamo per vedere Che cosa si nasconde Dietro Questa cosa La pelle Vediamo un po' Asciughiamo tutto il sangue Puliamo 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 E il momento È arrivato È il momento di aprire Apriamo Oh Guardate lì c'è il cuore Ragazzi È proprio lì il cuore Oh oh Ora dobbiamo aprire Questa cosa Che non so cos'è Vediamo Oh sono emozionata Sono emozionata Voi avete mai visto il cuore Di una persona umana Io no Sinceramente Tagliamo tutto qua Non so che cosa sto facendo Sinceramente Noi seguiamo quello che ci dice il gioco Perché siamo specializzati In piedi Ve lo ricordo Togliamo questa cosa Che non so cos'è La cassa toracica Forse non lo so Non vorrei dire Cose sbagliate Apriamo qua Guardate un po' Il cuore Il cuore Ok Vediamo che cosa dobbiamo fare A questo signore Ma poi scusate Quanto sta durando Questa operazione Tantissimo Ok Togliamo qua Secondo me Questi sono Bruri giri giri Sì In termine tecnico Si chiamano così Bruri giri giri Perfetto Ora togliamo questi Buru 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 Ahah Espiri biribira Bababa Avete capito Vi sto pure insegnando I termini Dei dottori Poi questo si chiama Dururu E Aprile Ragazzi L'operazione è finita E stiamo per richiudere Il paziente Finalmente Ho fatto il mio lavoro Posso tornare a casa Vedete Ora sto mettendo i punti Sono bravissima ormai Cioè Sono un'esperta Posso Posso curare tutti i pazienti Del mondo Perfetto Mettiamo Tutte le fasce E io direi Che per questo video È abbastanza Abbiamo imparato A fare Tutti i mestieri Del mondo Siamo dottori Professioni Ormai E noi ci vediamo Nel prossimo video Che speriamo Dove speriamo Che non cureremo Più i piedi Ciao Ciao Ciao